buonasera buonasera a tutti mi dispiace non sono con voi ma sono con voi sono con voi con il cuore sono con voi con l'affetto sono con voi anche come avete visto col bere e col mangiare che il premio che oggi festeggiamo che voi mi state dando che naturalmente festeggerò appena tornerò a raccaldamento con voi sono felice di questo premio perché il cibo come diceva qualcuno è cultura noi parliamo col nostro cibo con i nostri sapori e raccaldamento è una piazza importantissima dal punto di vista dei sapori del cibo delle cose che si mangiano di come si sta insieme e di come si celebra il cibo e il bere naturalmente sono un po l'essenza della nostra vita sociale per fortuna sono felice di questo premio perché penso che la sicilia posto come raccaldamento sia anche la nostra specialità le nostre cose che si fanno solo alla cremuto che si fanno solo in sicilia pensate soltanto una fesseria l'acculazzaro questo piccolo meloncino che viene condito usato come un cetriolo e che è una cosa molto delle nostre zone molto particolari quindi io vi ringrazio perché la nostra acqua l'acqua che viene le nostre fontane il nostro cibo sono la nostra cultura la nostra identità la nostra essenza grazie veramente grazie di tutto quello che fate che fate ogni giorno che fate come ospitalità tutto ringrazio i ragazzi che partecipano a questa iniziativa ringrazio tutti quelli che stanno ripartendo con l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno grazie a voi perché grazie a voi a quello che ci fate mangiare a quello che ci fate bere noi possiamo parlare di una sicilia fatta di sapori di gusti di identità e di sentimento quindi grazie vi voglio bene ci vediamo presto ciao